Ho pensato che nell'attesa del silenzio che oggi istituiamo, parlando tra i tanti, tantissimi, io vorrei dire qui, se lei me lo consente, e se questa evocazione non fosse presa per niente altro che un modo per farli presenti, almeno per un istante di nuovo, i nomi dei medici che non ci sono più per il SARS-CoV-2, secondo l'elenco è me provvisorio e incompleto, ma pubblico, perché non sia violata la privacy e la riservatezza del dolore provvisto dalla federazione nazionale degli ordini, dei medici, chirurghi e degli odontoiatri. Conservare e rinnovare la memoria recita il distico dell'iniziativa di legge che presentiamo. Se mi è permesso e per il tempo residuo che mi è concesso, vorrei tacermi e lasciar parlare soltanto i nomi dei dottori che si sono presi cura di noi, quelli ai quali, assieme agli infermieri, il personale sanitario tutto, ci siamo rivolti ogni giorno perché rischiarassero le nostre angosce, le nostre paure, quelli che questa paura l'hanno messa da parte, pianta magari in segreto per curarci o provare a farlo e consentirci così oggi di piangerli e di nominarli semplicemente. Di dire e dire grazie a Roberto Stella, Giuseppe Lanati, Giuseppe Borghi, Raffaele Giura, Carlo Zavarit, Gino Fasoli, Luigi Frusciante, Mario Giovita, Luigi Ablondi, Franco Galli, Ivano Vezulli, Massimo Borghese, Marcello Natali, Antonino Buttafuoco, Giuseppe Finzi, Francesco Foltrani, Andrea Carli, Bruna Galavotti, Piero Lucarelli, Vincenzo Leone, Antonio Buonomo, Leonardo Marchi, Manfredo Squeri, Rosario Lupo, Domenico De Gilio, Calogero Giabbarrasi, Renzo Granata, Ivano Garzena, Ivan Mauri, Gaetano Autore, Vincenza Amato, Gabriele Lombardi, Mario Calonghi, Marino Chiodi, Carlo Alberto Passera, Francesco De Francesco, Antonio Maghernino, Flavio Roncoli, Marco Lera, Giulio Titta, Benedetto Comotti, Anna Maria Focarete, Dino Pesce, Giulio Calvi, Marcello Ugolini, Abdel Saratairud, Giuseppe Maini, Luigi Rocca, Maurizio Galderisi, Leone Marco Vishkin, Rosario Vittorio Gentile, Francesco Dall'Antonia, Abdulgani Tachimacchi, Aurelio Maria Comelli, Michele Lauriola, Francesco De Alberti, Mario Luigi Salerno, Roberto Mario Lovotti, Domenico Bardelli, Giovanni Francesconi, Walter Tarantini, Guido Riva, Gaetana Trimarchi, Norman Jones, Roberto Mileti, Marino Signori, Gian Paolo Sbardolini, Marcello Cifola, Gennaro Anna Rumma, Francesco Consigliere, Alberto Paolini, Riccardo Paris, Dominique Musafiri, Italo Nosari, Gian Roberto Monti, Luciano Riva, Federico Vertemati, Giovanni Battista Tommasino, Paolo Peroni, Riccardo Zucco, Gian Domenico Iannucci, Gvant Mrad, Gian Battista Bertolasi, Silvio Lussana, Giuseppe Aldo Spinazzola, Vincenzo Emmi, Carlo Amodio, Adelina Alvino De Martino, Giancarlo Orlandini, Luigi Ravasio, Antonio Pusce, Lorenzo Vella, Salvatore Ingiulla, Mario Ronchi, Giuseppe Vasta, Nabil Kair, Marzio Carlo Zennaro, Taksin Crisat, Mario Rossi, Samar Sinjab, Antonio De Pisapia, Massimo Bosio, Francesco Cortesi, Giulio Matarazzo, Emilio Brignole, Edoardo Valli, Nabil Krabie, Gianfranco D'Ambrosio, Gaetano Portale, Fabio Rubino, Giovanni Stagnati, Giovanni Del Nevo, Luigi Ciriotti, Sebastiano Carbet, Maurizio Bertaccini, Domenico Fatica, Patrizia Longo, Enrico Boggio, Eugenio Malachia Brianza, Elisabetta Mangiarini, Marco Spissu, Arrigo Moglia, Alberto Guidetti, Alberto Omo, Giancarlo Buccheri, Pietro Bellini, Renzo Mattei, Eugenio Inglese, Vincenzo Frontera, Elfidio, Ennio Calchi, Carmine Sommese, Carmela Laino, Nicola Cocucci, Alessandro Preda, Italo Davossa, Renato Pavero, Antonio Lerose, Andrea Farioli, Luciano Abruzzi, Silvio Marsili, Oscar Ross, Manuel Efraim Perez, Alberto Santoro, Pasqualino Gerardo Andreacchio, Maddalena Passera, Carlo Vergani, Tommaso Di Loreto, SF, Guidoretta, Gian Battista Perego, Maura Romani, Luigi Macori, Armene Gildo Sant'Angelo, Raffaele Pempiniello, Oscar Giudice, Alberto Pollini, Guglielmo Colabattista, Alfredo Franco, Angelo Gnudi, Marta Ferrari, Antonio Costantini, Davide Cordero, Luigi Paleari, Leonardo Panini, Cesare Landucci, Ugo Milanese, Roberto Zama, Vincenzo Saponaro, Gesù Gregorio Pons, Paolo Paoluzzi, Fior Lorenzo Azzola, Joseph Leitner, Gianfranco Conti. Solo adesso le restituisco la parola a Presidente e la ringrazio.